Buongiorno amici e amiche di VR Italia, come va? Oggi andiamo a fare una roba un po' complessa ma molto utile, credo, molto utile perché andremo a fare la top tier di tutti i giochi presenti sullo store di MetaQuest 1 e 2 Chiaramente l'ho messo dentro YouTube VR e le app, ma ho messo dentro soltanto i videogiochi e le esperienze un pochino più, vabbè, che non sono videogiochi ma che sono robe che potete comprare e quindi vale la pena valutarle, ho creato questa bella tier list che parte da S e finisce con F e quindi andremo a inserire tutti i giochi, raga, ci ho messo 10 ora fa sta operazione io spero che ne valga la pena, spero che ne valga la pena io ci tengo a ricordarvi che le valutazioni che darò qua dentro i giochi sono sempre una mediazione tra il mio gusto personale e il lavoro che faccio come critico, vero ma diciamo che questa lista sarà più legata al mio gusto personale quindi non prendetevela, se è un gioco che a voi è piaciuto tantissimo lo piazzo in F non prendetevela, vi prego ma, 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 bando alle cianci iniziamo subito a fare questa tier list perché è molto molto lunga se non sapete come funziona, chiaramente su S ci stanno i capolavori A, i giochi molto belli B, i giochi bellini C, i giochi carini ma niente di che D, quelli un po' bruttini E, quelli brutti F, la merda F, la merda chissà che ci finirà dentro allora, iniziamo Pixel RIP 1995 bel gioco bel gioco seguito di Pixel RIP 1989 è un gioco sufficiente non mi fa impazzire cioè, non lo amo particolarmente ma è un buon gioco lo metterei tra B e C tra B e C piazziamolo su B Accounting Plus bellissimo gioco dallo stesso creatore di Ricche e Morti con quell'ironia quella quel tipo di comicità mi fa piscia da ridere lo metterò su A perché è figo è figo RIP Accounting Plus dovete provarlo se avete un PC magari provate Accounting senza Plus perché è gratis questa è la versione pagamento con delle cose in più Acron è un ottimo gioco competitivo da giocare qualcuno sul cellulare qualcuno in VR molto bellino molto bellino lo metterò su B lo metterò su B Affected Manor horror non particolarmente entusiasmante carina la nuova cosa che hanno messo dentro con una sorta di montagna russa horror che lo migliora un po' se non fosse per quello starebbe su D ma così sta su C Fisherman Tale puzzle game carino carino ma che non mi ha fatto impazzire bella l'idea ma non è eseguita sempre benissimo quindi anche lui sarà su C After The Fall va bene abbiamo parlato recentemente è un ottimo gioco il miglior esponente di Left 4 Dead presente in realtà virtuale non sta comunque su A perché non è un giocone imperdibile ma un buon gioco solido che fa quello che deve fare lo metterò su B Alt Deus Salt Deus è una visual novel molto bellina molto bellina se mi piace il genere merita la metterò su B è il seguito in un altro gioco che andremo a pescar dopo che si chiama Tokyo Kronos Tokyo Kronos questo forse però è un pochino più completo un pochino più bello Angry Birds Isle of Pig Isle come cazzo si dice Isle cioè Island Isle 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 of Pig Isle of Pigs lo metterò su A lo metterò su A è un gioco molto semplice dovete tirare come da tradizione gli uccelli sui maiali però funziona però funziona molto bene è ancora molto diventante Apex Construct Apex Construct scusate bellissima avventura col tiro con l'arco ancora una delle migliori su quest si becca una A Arksmith l'ha recensito Luca perché io dopo 20 minuti mi ero rotto le valle quindi inizierò a metterlo su D cioè è un gioco che non mi interessa non mi piace non mi ha detto niente Arizona Sunshine un po' invecchiato un po' invecchiato una volta l'avrei messo su S un paio d'anni dopo su A forse adesso si becca una B sì sì la versione quest si becca una B dai su PC lo metterei ancora in A perché graficamente è molto bellino su quest purtroppo sono stati fatti forse troppi compromessi per finire su A Arog Escape è un puzzle game bruttino a Township Tale non mi piace per niente cioè questa raga questa è una roba personale lo metto su F lo metto su F perché non lo capisco non capisco come si faccia ci si faccia divertire con un gioco del genere brutto 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 non mi piace ma non fa schifo lo dico non fa schifo se fossi completamente oggettivo l'avrei messo un po' più in alto ma ripeto questi sono i miei gusti personali per me una F Audica è un bel rhythm game con le pistole non ne abbiamo parlato molto sul canale ma a me piace moltissimo mi piace moltissimo forse lo piazzerei su A lo piazzo su A lo piazzo su A Audio Shield è stato il primo invece rhythm game prima ancora di Beat Saber dovevate come in Beat Saber colpire delle robe che vi arrivano addosso ma invece di colpirle in realtà dovevate pararle con degli scudi molto carino un po' invecchiato oggi quindi lo metterò su B Audiotrip invece un ottimo rhythm game si becca una S bello bello non a livello di Beat Saber ma quasi quasi veramente figo Bait è un giochino gratuito di pesca vabbè mettiamolo su C è una roba piccolina Ballista anche questo è un gioco ormai vecchiotto che forse ha più senso giocare però non è orrendo quindi lo metterei su C Battleseaster è brutto Battleseaster è proprio una stronzata quindi non lo so tra E e F tra E e F si becca una F perché è brutto brutto Beat Arena orrendo il peggior rate game che ho mai giocato quindi anche lui si becca una F Beat Saber vabbè raga che vi devo dire Beat Saber prima S prima S perché è bellissimo è bellissimo chiunque ami la realtà virtuale ama per forza le cose anche Beat Saber capolavoro assoluto gli si può di niente Blade and Sorcery d'altro canto a me fa vomitare è un gioco orrendo no dai in realtà non è un gioco orrendo su PC è carino nonostante che non sia un vero gioco su Quest è bruttissimo veramente una versione pezzente F Blair Witch un bell'horror con alti e bassi alti e bassi la versione flat non mi era piaciuta molto devo dire che inviare invece funziona c'è un problema di ritmo nella prima metà però poi inizia a salire nell'ultimo atto succedono delle robe e diventa molto figo insomma tra A e B tra A e B lo metterò su B dai lo metterò su B Blaston invece è un bellissimo multiplayer uno contro uno vale la pena forse metterlo su S quasi raga eh quasi su S molto difficile questo molto difficile no dai comunque una comunque una però raga questo lo dovete giocare costa 10 euro uno dei migliori pvp presenti sul mercato VR Blue Planet molto carino potete esplorare semplicemente delle zone ricostruite in fotogrammetria però vabbè non è una roba eccezionale lo metterei su C Brink Traveler è la stessa cosa ma fatta meglio quindi lo metto su B Bowman è un gioco molto molto semplice che non ha ahimè molto da dire lo metterò su D B Team anche questo gioco uscito all'inizio su Oculus Go quindi un gioco molto molto semplice molto molto vicino alle esperienze mobile tradizionali lo metterò su C anche se in realtà è divertente anche se in realtà è divertente però sì stiamo sul livello di Pixel RIP 1995 più o meno Capitan 2Ned raga a me è piaciuto tantissimo secondo me è uno dei grandi titoli di quest'anno per MetaQuest anche questo TSA però oggi voglio essere un po' cattivello oggi voglio essere un po' cattivello e mettere su S sulla roba imperdibile sulla roba che è veramente capolavoro assoluto Carly and the Ripperman a me non è piaciuto multiplayer cooperativo uno gioca da computer uno gioca da quest un po' macchinoso per come funziona lo metterò su D Carves the Morning è un ottimo gioco di snowboard lo metto su o su A o su B o su A o su B dai mettiamolo su B Catan è un gioco di carte cioè il Catan non mi interessa ma è fatto discretamente mettiamolo su C Cave Digger gioco molto sottovalutato e tra l'altro gratuito non mi ricordo se è su PC è gratuito su Quest no comunque dovete scavare dovete scavare una roba un gesto molto semplice ma che in VR assume tutto un altro sapore non è comunque un capolavoro mettiamolo su C gli scacchi non me ne frega niente ma lo metto su C perché si gioca Clash of Chefs Clash of Chefs Clash of Chefs lo metterò su C anche lui discreto gioco di cucina ma c'è di meglio Cloudlands 2 è un gioco di golf non me ne frega niente lo metto su D Coster Combat è un gioco di un gioco sì è un gioco di montagne russe montagne russe ma molto carino devo dire molto semplice dovete anche sparare a delle palline delle cose un po' per bambini però l'estetica è carina insomma mi ha divertito nella sua semplicità lo metto comunque su C Contractors e iniziamo già a salire di categoria Contractors è un ottimo sparatutto multigiocatore forse devo dire tra Howard e Pavlov che sono i due gli due esponenti più importanti del PvP in realtà virtuale e quello che mi piace più è Contractors invece che è quello che mischia meglio le due cose questo tra S e A tra S e A lo metto su S questo perché per me è un imperdibile se vi piace il genere Cookout bellissimo gioco di cucina forse il più bello su Quest quindi lo metterò su A Cosmo Dread molto bello horror molto molto figo pecca un po' nella sua struttura da roguelike che forse alla lunga un po' stanca quindi lo metto su B Crashland Crashland è un capolavoro invece Crashland è il miglior wave presente sul mercato VR post wave chiamiamolo perché comunque ci si può muovere all'interno dell'arena e c'ha degli elementi gameplay che non si vieno di solito nel wave shooter SS raga incredibile da recuperare l'ho messo anche tra le prime posizioni nella nella lista dei migliori giochi di quest'anno Creed Rise to Glory bellissimo gioco di combattimento lo metterò su A lo metterò su A è quello che a me personalmente piace di più tra tutti qualcuno preferisce Trail of the Fight io preferisco Creed Rise of Glory Cubism è un buon cubism è un buon puzzle molto semplicino molto rilassante niente di incredibile però si fa giocare c'è anche land tracking non so se metterlo su B o su C molto difficile molto difficile lo metterò su C lo metterò su C Dance Central il gioco incredibile di ballo cioè chiaramente è Dance Central e se qualcuno non conosce Dance Central è come Jazz Dance praticamente però in realtà virtuale molto bella la tracklist molto bello da vedere un ottimo gioco veramente un ottimo gioco sarei tentato di metterlo su S perché è il migliore esponente del suo genere forse così devo valutare gli S se sono i migliori esponenti di un genere no mettiamolo su Dash Dash World ci speravo tanto speravo di vedere finalmente Mario Kart in VR purtroppo non è Mario Kart in VR è comunque un gioco buono che funziona che diverte non ha quegli elementi che mi aspettavo da un gioco del genere però molte cose le fa benino quindi lo metterò su B su B Dead and Buried 2 PvP non particolarmente divertente raga lo metto su D Dead Horizon è invece una piccola avventura FPS in cui accedere zombie a destra e a sinistra molto molto semplice molto molto basic ma è carino da giocare in compagnia anche lui si potrebbe beccare una C ma lo metterò su S no lo metterò su C lo metterò su C Death Lap brutto brutto c'è un brutto gioco di corse lo metto su E Demeo Demeo è invece un gioco eccezionale veramente un grande gioco da tavolo riportato in realtà virtuale lo metto su A perché comunque secondo me c'ha dei piccoli provenienti di locomotion che non lo fanno arrivare all'eccellenza assoluta cioè può portare a motion sickness che è molto strano per un gioco da tavolo ma può succedere forse su S ci vuole la roba che è adatta anche a tutti comunque è bellissimo Drop Dead è praticamente House of the Dead un po' più cartoon riportato in VR molto bellino ma chiaramente non eccellente Disc Ninja vabbè un giochetto mettiamolo su C dovete lanciare sti dischetti dentro a degli elementi non è brutto c'ha abbastanza livelli è abbastanza longevo però non è una roba che mi fa impazzire Doctor V frega cazzi lo metto su D Down the Rabbit a me raga non è piaciuto molto nel senso che c'ha delle robe che funzionano molto bene delle robe che per me non funzionano lo metto su D non offendetevi Dreadhalls invece grande horror che viene prima di Cosmo Dread uscito su Go uscito su su come si chiama Gear VR insomma uscito un po' in tutte le salse però su questo rende ancora molto bene dovete scappare da sto mostrone che vi insegue dentro a dei labirinti Drunk and Bar Fight è molto divertente gioco LOL per eccellenza dovete ammazzare la gente ammazzare no dovete menare la gente in un bar da ubriachi questo è il concept di questo gioco lo metterò su C ICO VR ICO VR va su S bellissimo multiplayer competitivo un po' tra il calcio e il basket a zero gravità è anche gratuito vabbè raga questo dovete giocarlo a tutti i costi chiaramente viene da Lonico il grande capolavoro della PC VR Electronauts è un bel giochino per mixare in modo simpatico le canzoni lo metterò lo metterò su B B bello bellino il Levente World Tennis raga a me non me ne frega niente lo metto su C mi dispiace è buono c'è un bel gioco di tennis ma a me il tennis non interessa Elixir è un giochino piccolino me lo ricordo poco ma lo metto su D così per ridere il Levente Assassin è un po' invecchiato mettiamolo su C End Space anche lui sta su C è un po' invecchiato pure lui anche se è l'unico gioco di astronavi presenti sullo store del quest per ora Epic Roller Coaster con la sua vendita DLC a me non è che mi convince molto lo metto su D Aspire One anche lui su C un sufficiente esponente dello stealth game in VR Eternal Starlight Sea Back anche lui un AC ed è vabbè un RTS nello spazio simpatico ma un po' un po' noioso alla lunga Face of Fear invece lo metto su B un buon horror diviso in due macro party che comunicano bene tra loro abbastanza spaventoso è vero che fa tanto uso dei jumpscare però in VR ci piace anche quella roba là File Factory giochino super semplice tra il puzzle game e l'action un po' blando lo metterò su D no lo mettiamo su C Falcon Age è una bella avventura che mi è piaciuta soffre molto dei limiti tecnici del primo quest lo metto su B Floor Plan è bellissimo invece è bellissimo puzzle game miso avventura con un stile eccezionale molto divertente anche nella scrittura si puppona Flow Weaver Flow Weaver è un puzzle game che non mi aveva convinto molto ma è un po' meglio di Rogue Escape oh no mi son confuso Rogue Escape è un po' meglio di Flow Weaver no Rogue Escape va su C Flow Weaver era quello brutto scusate sono 250 non posso ricordarmi perfettamente tutti Five Nights at Freddy's VR capolavoro capolavoro assoluto del genere capolavoro assoluto del genere chiunque ha milhorror ma anche se non avete l'horror dovete giocarlo concept semplicissimo ma iper iper divertente Forever Ball ottimo gioco di bullying si puppa una B Forever Darts ottimo gioco di freccette si becca una B Free Driver no Free Diver Free Diver Triton Down è uno dei primi che ho giocato e sapete che non me lo ricordo quindi lo metterò su C non me lo ricordo molto bene Fruit Ninja in vecchiatino si becca una C Gadgeteer è un buon puzzle game si becca una B Sword of Gargantua invece era uscito che era una mezza cacata poi col tempo l'ha migliorato molto sapete l'ha migliorato molto e adesso si becca una B una volta avrei detto D al lancio oggi però secondo me ha migliorato molto vediamo se aggiungono ancora cose potrebbe salire addirittura A col tempo Ghost Giant è una bella avventura molto semplicina e che non tratta secondo me il tema di fondo con la sensibilità giusta poteva ambire all'A ma si becca una B Golf frega niente di Golf frega niente di Goliath che cos'è Goliath? Goliath che cos'è Goliath? ma cos'è sta cosa? perché l'ho aggiunta? non l'ho manco giocato beh io lo metto su C a caso però raga a caso questo permettetemi di farlo Gorn Gorn sta su A comunque gioco di combattimento stradivertente Gravity Lab ma anche lui su C e Puzzle Game con la gravità che non è eccezionale ma è simpatico Gun Club a me non piace molto lo metto su D Gun Riders in realtà è un buon FPS l'ho esplorato poco per ora quindi lo lascerò su B ma potrebbe essere che col tempo salga Guns Stories non mi è piaciuto per niente si becca una E Half Half è un buon gioco anche lui me lo ricordo poco cioè non l'ho esplorato abbastanza quindi però l'ho messo su C End Physic Lab è un gioco che non funziona molto bene ma fa vedere molto bene invece l'utilizzo dell'entracking quindi si beccherà una B per il concept Atsunemiko bruttissimo bruttissimo Rhythm Game al pari di Bit Arena Hollow Point boh nel 2021 chi se ne frega lo metterò su E House Flipper dovete sistemare le case boh a me non mi dice niente lo metto su D Hyper Dash è un ottimo sparatutto competitivo lo metterò su A lo metterò su A I Expect You To Die bel puzzle game ancora oggi si merita forse si merita l'A tra A e B però mettiamolo su B come il suo seguito con More Of The Same in Death chiaramente invece si pupa la S che ve lo vorrò assoluto action avventura roguelike un pochino horror vabbè raga lo continuano ad aggiornare sempre più bello da vedere sempre più contenuti in Death è uno degli imperdibili assoluti per la realtà virtuale Dione è il gioco più brutto della storia di videogiochi inutile parlarne ancora Iron Lines è un buon gioco pvp di cappa e spada l'unico nel suo genere si pupa una B anche Job Simulator si pupa una B no in realtà Job Simulator è ancora divertentissimo raga nella sua semplicità Job Simulator riesce a fare ancora tutto stra bene Journey of the Gods è una delle più belle avventure secondo me per i visori di realtà virtuale si becca una S un po' Zelda un po' non lo so un po' Zelda un po' Zelda un po' Zelda non a quel livello ovviamente però molto molto bello Jurassic World of Fermat si becca una A a me è piaciuto tantissimo sono molto tentato di metterlo su S parte 1 e parte 2 insieme sono veramente eccezionali veramente oh ma si becca la S raga si becca la S bellissimo come si becca la S King Spray che se non lo conoscete è semplicemente un software per pitturare sui muri con le bombolette però raga vi assicuro che è bellissimo cioè l'irrealismo di queste bombolette la varietà con cui potete pittare i muri potete veramente creare delle opere d'arte incredibili in realtà virtuale su dei muri appunto virtuali non lo so raga è bello è bello un'esperienza bellissima Kizunei Touch the Beat invece un discreto ritmo game gratuito tra l'altro nelle prime tre canzoni poi tutti i pezzi si comprano a parte a me è piaciuto non da farmi impazzire me lo metto su B Knockout League un bellissimo gioco di box quello più gioco tra tutti cioè quello che ha più meccaniche di gioco e ha meno meccaniche della box bello bello dove l'ho messo? su A su A si merita la Lancernauts è un bellissimo FPS competitivo chissà se sì sì dai lo metto su S perché è veramente eccezionale secondo me Last Labyrinth invece ha delle robe di estetica molto fighe ma il gioco non è bellissimo Layers of Fear allora io l'ho provicchiato devo dire che non ci ho giocato a fondo non mi stava piacendo quindi gli darò una D però lo riprendo in mano perché magari invece mi piace Life's Been It si becca una S secondo me Life's Been It si becca una S horror fenomenale un po' tra Resident Evil le Silent Hill con questa estetica self shading da pelle d'oca raga da pelle d'oca veramente bellissimo un gioco bellissimo Little Wish Academia in realtà a me è piaciucchiato molti dicono cioè molti non l'hanno neanche preso in considerazione ma secondo me è un bipieno gioco di corse un po' alla Mario Kart ma sulle scope con le streghette simpatico Loco Dojo si becca una C invece minigiochi carini ma non tutti e soprattutto non si presta molto bene l'Aviar secondo me Lucky Stale Lucky Stale anche questo tra E.B uno dei primissimi giochi in realtà virtuale che era disponibile a suo tempo solo col pad poi è stato aggiornato anche con motion controller adesso è arrivato su Quest no B B B B B B Mare bellissimo Mare lo metto su A gioco un po' l'affumito Weda un po' avventura un po' un po' arti un po' vabbè andatevi a vedere la recensione secondo me da A Mini Moto Racing X e da S invece questo è assolutamente il gioco di corse fenomenale che su PlayStation VR mi era piaciuto ma fino a un certo punto perché quei controller non me l'avevano fatto apprezzare così tanto rigiocato su Quest incredibile 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 la merda la merda ma non è brutto come Ionia vi do un vi rivelo un segreto quindi lo metto su E colpo di scena Morels non me ne frega niente lo metto su E Moss su S anche lui bellissima avventura in terza persona vabbè lo conoscete tutti stupendo MVP Football non me ne frega niente lo metto su E quelli che non ho giocato li metto a caso raga scusate Mist 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 lo metto su D lo metto su D solo per il valore intrinseco dell'opera ma no lo metto su F lo metto allora Mist è un gioco secondo me imperdonabile imperdonabile per come è stato adattato nel 2021 non ha assolutamente senso brutto Neverboard lo metto su invece C un buon gioco di compagnia come si può dire ci sono vari giochi da tavolo potete giocarli in multiplayer carino Ninja Legends non è un gran che lo metto su D Ocean Rift è simpatico lo metto su C O Shape O Shape in realtà il concept è molto figo dovete entrare in queste forme mentre vi vengono addosso dei muri lo metto su B B se lo merita O Word molto bello secondo me comunque la versione Quest pecca un pochino della sua componente grafica ma sono sicuro che nel tempo lo miglioreranno moltissimo quindi per ora un A ma A tendente alla S Orbus VR è stato il primo MMORPG uscito in VR ed è l'unico pregio di questo gioco Paranormal Activity è un buon horror da B livello Blair Witch VR Path of the Warriors secondo me è un ottimo gioco di combattimento anche in multiplayer che si rifà ai vari beat'em up degli anni 80-90 si merita un A piena Phantom Cover Ops tra A e B tra B primo gioco di End Dreams un po' stealth alla Metal Gear ma tutto su un kayak bella l'atmosfera un po' ripetitivo sulla lunga distanza quindi si lo metto su B o su A perché in realtà ha delle cose molto belle no però l'intelligenza artificiale non è perfetta il pinball non mi interessa lo metto su no non è vero il pinball comunque da C Pistol Whip S assolutamente anche questo uno dei grandi capolavori assoluti della realtà virtuale un gioco che ti fa ti fa calare nella parte di John Wick Player 22 col senno di poi è un no secondo me è un no non è una schifezza però è un no Please Don't Touch Anything è simpatico oggi non so se lo consiglierei mettiamolo su C Pokestars è molto divertente mettiamolo su B giochi a poker in multiplayer Population 1 Population 1 nel tempo mi è un po' sceso pensavo che avrebbe fatto un percorso diverso e invece devo dire se prima lo consideravo un S adesso lo considero un A forse addirittura un B no però mettiamolo su A perché ancora c'è qualche speranza Premium Bullying non è un gran gioco di bullying secondo me Prison Boss VR non è un granché Project Terminus l'ho solo iniziato l'ho solo iniziato e mi sembra un gioco da C però dovrei andare avanti Puzzle Bubble VR anche questo questo è uno dei pochi giochi che ho ridimensionato davvero col tempo poi gli avevo dato 8 faccio un po' mia colpa perché non è da 8 è un gioco da 7 è un gioco da 7 lo metterò su B Puzzling Space Puzzling Places invece è un bellissimo gioco di puzzle effettivi dove dovete mettere i pezzi di puzzle uno vicino all'altro bellissimo A rilassante come pochi Raccoon Lagoon è il nostro è il nostro Animal Crossing il nostro Animal Crossing non è bello come Animal Crossing ma delle cose carine comunque è un gioco da B Racket Fury anche questo a me il genere non mi interessa lo metto su C secondo me Racket NX lo metto invece su B perché mi è piaciuto un po' di più Radial G oggi è molto invecchiato mettiamolo su C Ragnarok è bellissimo e si potrebbe meritare una S però lo metterò su A Belgio Rhythm Game con musica vikinga Pazzeriel Rainbow Reactor un gioco molto semplice che da C C piena Ramen Simulator non me ne frega niente lo metterò su D Resident Evil 4 VR chiaramente sta qua sta qua S è l'unico altro che 5 vabbè no non parliamo non parliamo di certe robe bellissimo capolavoro c'è poco da vedere come Real VR Fishing un gioco di pesca eccezionale con una ricostruzione in fotogrammetria dell'ambiente circostante veramente fuori di testa fuori di testa Rec Room è ancora uno degli imperdibili della realtà virtuale perché è gratis vi permette di giocare con gli amici ha un sacco di minigiochi Red Matter è un altro gioco da bella avventura sci-fi con una grafica tra l'altro eccezionale dei buoni un buon lavoro sui puzzle Republic VR non me lo ricordo perché ci ho giocato tanti anni fa credo che non sia invecchiato così bene lo metterò su C Resist Resist lo metto è su tra C e D tra C e D tra C e D ma lo metterò su C no su D no su C no su D è più bello di Fruit Ninja forse no lo metto su D Resist è un capolavoro era un capolavoro su Dreamcast raga è un capolavoro ancora di più in realtà virtuale soprattutto con la nuova modalità Infinite Richie Splunk Experiment è un imperdibile ma solo per farlo provare agli amici quindi lo metto su B Robo Recall è un capolavoro su PC su Quest è un buon gioco da B da B secondo me Rush invece è un gioco da A ottimo titolo in cui lanciarsi con la tuta l'area tra le montagne Sentence Inder è un gioco da S capolavoro assoluto dello zombie game in realtà virtuale Sirento bello invecchiato un pochino quindi lo metto su B se Mmax col senno di poi anche lui lo metto su B è un gioco ahimeno riuscito al contrario di Retropolis invece che fa la stessa cosa ma bene quindi lo metto su A Shadowgate non mi è piaciuto lo metto su D Shadowpoint mi è piaciuto moltissimo quindi lo metto su A Shooty Fruity è un gioco si va bene spari alla frutta gioco da C Shooty Skies non mi è piaciuto Skyward è un buon gioco quindi lo metto su B un RTS molto interessante Smash Drums Smash Drums ha una bella meccanica un rhythm game con una bella meccanica della batteria ma le cazzoni non mi piacciono raga per me sono brutte quindi lo metto su C Sniper Elite VR anche lui è un gioco da C abbastanza deludente Solaris un bellissimo FPS senza giocatori quindi si recca una B perché non c'è giocatori Song in the Smoke invece uno da S miglior survival game presente in realtà virtuale Space Channel 5 oh raga questi sono gusti personali capisco che non è una roba che comprerebbero tutti perché è un gioco che dura un'oretta in cui dovete far solo due balletti del cazzo però a me l'estetica di quella roba uscita su Dreamcast a me fa impazzire fa impazzire quindi lo metto su A personalmente da A se fosse oggettivo sarebbe da C Space All City anche questo tra il C e tra C e D Space Pirate Trainer ancora molto bello poi se avete uno spazio 15x15 mi sembra che sia per fargli creare un'arena vera dentro uno spazio gigante voi vi potete muovere tra i muri tra le cose è un'esperienza incredibile solo che non tutti hanno una dimensione lo spazio di gioco di quel tipo là forse era 20x20 addirittura Sport Scramble molto carino sono tre sport mischiati da B Star Shaman no Star Shaman non è un granché Star Trek è molto bello ma anche qui non trovate più giocatori quindi lo metto su B Star Wars Pinball è un buon pinball da B come si chiamava questo Sword of Harald Harald e vabbè ci siamo capiti qual è perché c'è scritto Arenas cosa è successo cosa hanno cambiato cosa hanno aggiunto vabbè per quello che era in realtà io gli avevo dato 5,5 se non sbaglio 5,9 comunque poco meno della sufficienza perché aveva dei problemi ho visto che alcuni problemi sono stati sistemati il gioco di per sé è carino e vale la pena secondo me giocarselo quindi lo metto su B lo metto su B Stride bello Stride bello un gioco da A anche se non ha molti contenuti però un po' quella roba alla Mirror's Edge è fighissima Super Hot VR chiaramente da S forse è ancora il più grande capolavoro di design creato per l'arte virtuale Supernatural è un buon gioco di fitness mettiamolo su B Swarm è un bellissimo sparatutto hyper action in cui volare da una parte dell'arte della mappa lo metto su A Sweet Surrender è un FPS che sta in piedi ma non è eccezionale Sin Traders a me non è mai piaciuto Star Wars Tale il front galaxy edge invece è bellissimo quindi si pupa una S Tarzan VR è brutto ma è meno brutto Ionia è meno brutto di Deathlap quindi lo metterò su D colpo di scena colpo di scena Tetris Effect è un gioco da S è ovviamente è il Tetris ma è fatto è rifatto in maniera clamorosa The Climb è un altro gioco da S The Climb 2 forse secondo me è un filino inferiore The Climb 2 è un filino inferiore ma anche a livello di level design non non mi ha fatto impazzire anche se è un ottimo gioco eh cioè comunque un grande gioco mmm mmm mettiamolo su A mettiamolo su A eh Crusade of the Stolen Pets è molto carino si gioca anche con Land Trekking lo metterò su C The Exorcist fa molta paura quindi lo metto su A eh derunviare il miglior puzzle game ancora presente in realtà virtuale The Under Presence era molto figo era questo gioco in cui eh entravate in ste instanze in cui c'erano attori che recitavano per il gioco e voi che dovevate recitare insieme agli attori una roba delirante che però adesso non è più attiva se non sbaglio nel senso che eh non c'è più la possibilità di giocare con gli attori eh pagati dal eh appunto eh dal team di The Under Presents mmm quindi lo metto su B lo metto su B The Wizard su Quest per me è un no eh per me è un no The Wizard su Quest Thrill of the Fight è un bel gioco di combattimento lo metto a pari merito eh con Creed perché l'ho messo qui Creed Sì eh per me è un no con Creed c'è chi preferisce uno c'è chi preferisce l'altro io preferisco Tamper invece che è un capolavoro assoluto della realtà virtuale eh sembra di essere che non so sembra di farsi dieci pastiglie di MD e e e e e dormire questo è quello che succede in Tamper eh Time Stall è un buon puzzle game lo mettiamo su B eh Tokyo Cronos è quello che vi dicevo anche questo su B perché non sono un amante eccessivo delle visual novel eh il baseball non me ne frega niente Traffic Jam eh col senno di poi lo metto su D perché non è un prodotto riuscito Troversity Universe invece è un'avventura super divertente anche questo dai eh creatori di Rick e Morty voglio da uno dei creatori di Rick e Morty Ultra Wings era bellino ai tempi oggi un po' invecchiato lo mettiamo su no mettiamolo su C Unplugged è una bellissima idea cioè farvi suonare la chitarra con le vostre eh vere mani in hand tracking è fighissimo non funziona però troppo bene eh però l'idea c'è la tracklist è buona mettiamolo su C Anti-U-Fall invece un gioco da S serenamente eh combat system migliore combat system eh con la spada migliore mai visto in realtà virtuale Vacation Simulator secondo me è un pochino peggio di Job Simulator in realtà conti fatti è un buon gioco è divertente ma Job Simulator era un po' più a fuoco lo metto su B eh Vader Immortal sono fighi sono fighi brevi molto cinematografici ma fanno quello che devono fare poi c'è il Mojo che è eh iper divertente Vanishing Race non mi è piaciuto Van lo metterei su su C è un platform decente virtual virtual reality è un capolavoro raga giocatelo se non l'avete fatto lo so che di questo non c'è la recensione ma a un certo punto la farò è un gioco assurdo un gioco assurdo cioè non voglio dirvi niente vi dico solo giocatevelo eh Void Racer eh c un gioco di corse un po' me di Archat raga è un'esperienza incredibile che dovete fare cioè da esse è gratuito vi permette di entrare in contatto con migliaia migliaia milioni di persone mondi migliaia di mondi diversi migliaia di esperienze cioè una roba assurda che però è difficile un po' da capire eh però è è un'esperienza che va fatta se avete un visore un'altra roba di football non mi interessa VR Kart no VZ Fit non è quello che doveva essere Walkabout Minigolf invece è un ottimo gioco di golf lo metterò su A forse il più bello presente sul mercato Worlds of the Wizard D perché non non è abbastanza divertente abbastanza contenuti Wander io lo metto ancora su A è Google Earth in realtà è virtuale praticamente Wanderer Wands Wands non me lo ricordo così bene mettiamolo su C secondo me era un gioco da C Warplanes invece è ancora forse il miglior simulatore di aerei di scontri aerei su questa quindi si becca un A Where Talks Where Talks Go Where Talks Where Talks Go è una roba interessante anche questo non vi dico niente lo metto solo su B andatevi a vedere che cos'è perché è difficile da descrivere ma è esperienza interessante The Wizard anche questo bello su PC ma non su Quest Wonderglade è un gioco per bambini fatto dignitosamente Afterlife o meglio Wraith Oblivion Afterlife invece nel mio cuore grande horror grande survival horror in cui non potete infendervi ma dovete vagare in questa magione un po' appunto alla Resident Evil ma senza armi alla ricerca di risposte stupendo Yuki molto molto bello arcade purissimo che si rifà appunto agli arcade degli anni 80 agli shooting map degli anni 80 e 90 bello ancora bellissimo secondo me da Jupitergrad Jupitergrad 3SA avventura incredibile che sfrutta molto molto bene i rampini i rampini mettiamolo su A però è bellissimo Zero Caliber è molto brutto da vedere è molto semplice nelle sue meccaniche ma devo dire me lo sono giocato tutto con un amico alla fine mi sono divertito quindi B Zombieland mi ha stupito mi aspettavo una schifezza invece è un gioco comunque dignitoso lo metterò su B e infine Zookeeper Blast Quest anche questo puzzle game simpatico che può stare serenamente su B serenamente su B basta questo è quanto quanto è durato quanto è durata questa cosa tantissimo 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 ma ce l'abbiamo fatta questi sono tutti i giochi usciti per quest e rancati per qualità quindi abbiamo la S abbiamo la A abbiamo la B abbiamo la C abbiamo la D abbiamo la E e abbiamo la F giochi più brutti Township Tale But Sister Beat Arena Blade & Sorcery Etsunemiko Ionia e Mist giochi più belli in assoluto Resident Evil 4 Beat Saber Contractors Reds Infinite Crashland Saint and Sinner Five Night Freddy's VR Pistol Whip Echo VR Journey of the Gods Song in the Smoke Jurassic World Tedious Effect In Death King's Prey Nice Minute Lancer Nauts Anti-U-Fall Minimotor Racing Stamper Moss Real Fish VR The Climb Superhot VR Star Wars Galaxy Edge Virtual Virtual Anti The Room VR VRChat E Vraid Oblivion Free Live Grazie per essere stati e state qui con me e mia compagnia vi ricordo che di quasi tutti i giochi che ho rancato trovate le recensioni su canali di VR Italia noi ci vediamo nel prossimo video alla prossima di Smack Ciao Ciao